Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale Kiryu 1984 e al consueto appuntamento con le news della settimana. Partiamo subito con alcuni annunci che ci sono stati da parte di Star Comics. Il primo è quello del nuovo manga della regina dei manga Rumiko Takashi e appunto la Star Comics durante una delle ultime dirette su Instagram ha annunciato che pubblicherà Mao, una serie per ora in corso di quattro volumi che ovviamente vedremo solo prossimamente, non si sa una data effettiva per via di tutto quello che sta succedendo in fumetteria, libreria e store online e la trama è questa. Da bambina Nanoka venne coinvolta in un misterioso incidente in cui perse i genitori. Gli anni passano, le ferite si leniscono e Nanoka oggi è una liceale come tante che vive con i nonni e trascorre una normale vita da studentessa finché un giorno, passeggiando nei pressi del luogo dell'incidente di tanti anni prima, non si trova inspiegabilmente catapultata in un mondo sovrannaturale, popolato da yokai e da altre arcane creature. A correre in suo aiuto è l'affascinante Mao, un ragazzo misterioso che sembra appartenere a quel bizzarro mondo, un portale che collega mondi diversi, spettri terrificanti, reale e sovraumano che si intrecciano, due giovani legati dal destino. Chi è Mao? Qual è la vera natura di Nanoka? Dopo la Mu, Ursei Yatsura, Rama Unmezzo e Inuyasha, lasciatevi trasportare in una nuova e incredibile avventura firmata da sua maestà Rumiko Takashi, la principessa dei manga. Io prima l'ho chiamata regina dei manga, ma insomma ci siamo capiti, è la principessa dei manga. Al momento non sappiamo il tipo di edizione che avrà questo volume, anche se io credo che sarà quella da edicola, né il prezzo. E a me devo dire che nonostante io sia un grandissimo amante di Rumiko Takashi, mi sembra un po' la solita trama delle sue ultime opere, diciamo da Inuyasha in poi, che sono anche quelle che mi hanno fatto un pochino perdere interesse verso i suoi manga. Infatti Rinne è stata la prima opera di Rumiko Takashi in assoluto, che io non ho concluso, però comunque un'occhiata e una possibilità gliela daremo sicuramente. E poi sono stati fatti sempre da Star Comics anche due annunci a tema shoujo. Il primo è Sunset Light di Maki Usami. Quattro persone vivono nella stessa casa, frequentano la stessa scuola, condividono la stessa famiglia, lo stesso futuro, ma anche le loro storie d'amore. Adesso però inizia il viaggio per diventare adulti. E poi è arrivato anche l'annuncio di una seconda sorpresa, ovvero Arrivare a te, Bangai Hen, un mei no ito, di Karuo Shina, che è uno spin-off chiaramente di Arrivare a te. Vi sono mancati Sawako, Kaze Haya e i loro amici? Dopo l'incredibile successo di Arrivare a te, uno dei manga shoujo più amati degli ultimi anni, ecco a voi un volume speciale che ci riporta insieme ai nostri protagonisti attraverso quattro storie inedite, successive all'ultimo volume della serie che ci ha fatto innamorare. Ovviamente anche per questi non ci sono date e non sappiamo le specifiche delle edizioni, e io personalmente posso dirvi che probabilmente darò un'occhiatina a questo Sunset Light, anche se così ad una prima occhiata non mi sembrano chissà che come annunci. E poi attraverso fonti sicuramente diverse da quelle solite e ufficiali, abbiamo scoperto che anche il manga Vampyrs My Peer Vampyrs di Achille uscirà in Italia. Infatti attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale, il mangaka Achille si è rivolto ai fan occidentali per comunicare che il suo manga Vampyrs My Peer Vampyrs verrà pubblicato in edizione italiana, inglese e tedesca. Infatti nel suo tweet si legge che sono state firmate le richieste di traduzione per queste edizioni estere. Questa serie si compone al momento di due volumi, di cui il primo è stato pubblicato il 19 agosto 2019 e il secondo a gennaio 2020 in Giappone, e i disegni mi sembrano molto molto affascinanti. La storia prende il via il giorno dei funerali della nonna di Ichika, quando la ragazza incontra Aria, una straniera bellissima che afferma di essere un'amica della defunta. Ichika scopre presto che Aria non è un comune essere umano, è una vampira e la loro relazione è appena iniziata. E quindi da quel che ho capito sarà tipo uno Yuri, quindi vedremo un attimino. I disegni però mi sembrano davvero molto molto affascinanti. E un'altra opera che invece è appena iniziata in Giappone è una nuova opera del maestro dell'horror Junji Ito. Questo suo nuovo manga, chiamato Gengai Chitai, parlerà delle stranezze nelle distorsioni che avvengono nella vita di ogni giorno, ed è disponibile al momento su Line Manga. Il numero 20 della rivista Weekly Young Magazine di Kodansha ha annunciato che la serie manga Seven Shakespeare, Nonsense Droid di Harold Sakuishi, autore molto conosciuto per il bellissimo Beck, si ferma a tempo indeterminato. L'opera, che era un po' la continuazione di Seven Shakespeare, al momento si compone di 11 volumi. Il sito web ufficiale della rivista Besatsu Friend ha confermato che la serie Un bacio a mezzanotte, di Rin Mikimoto, si concluderà sul numero 6 del mensile di Shoujo Manga della Kodansha in vendita dal 13 maggio 2020. E l'ultimo volume sarà il dodicesimo. E si prenderà una pausa anche un famosissimo manga pubblicato anche con molto successo in Italia. Infatti il numero 20 di Weekly Shonen Jump ha annunciato che il manga The Promised Neverland di Kai Uchirai e Pozu Kademizu si prenderà un numero di pausa. Il prossimo capitolo, il 176, che sarebbe dovuto uscire il 27 aprile 2020 sul numero doppio 2223, anche perché, come sappiamo, come abbiamo visto nelle news precedenti, quello stesso giorno, il 27 aprile, la Shueisha pubblicherà il numero 2122 per recuperare il rinvio proprio del numero 21 del 20 aprile che non uscirà a causa dell'emergenza coronavirus. La serie, come confermato da Shueisha, quindi ritornerà il 10 maggio in digitale e l'11 maggio sul numero 23 di Shonen Jump. E una pausa è anche in programma per Satoshi Shiki e due dei suoi manga. Attraverso Twitter, l'autore, noto per l'attacco dei giganti Before the Fall, ha annunciato che i suoi due manga in corso di pubblicazione, ovvero Bakuen e Dororo Toyakimaru Den, si fermeranno per un mese a causa dell'emergenza coronavirus. In particolare, il mangaka ha spiegato che per mantenere le misure di distanziamento sociale, lo staff che lavora ai manga si sta organizzando per lavorare da casa, invece che in studio. E quindi, durante questo periodo di transizione, la serializzazione si fermerà. La ripresa di entrambe le serie è prevista per maggio. Da mercoledì 15 aprile è disponibile una nuova applicazione che sicuramente farà gola a molti manga fan. Purtroppo, al momento, disponibile solamente per dispositivi iOS e si chiama Mangamo. Una nuova app per poter leggere senza limiti e legalmente tutti i titoli editi e restare aggiornati sui nuovi capitoli. Il prezzo, che mi sembra molto conveniente, è di 4,99 dollari al mese e al momento, però, il sito offre due mesi di prova gratuiti. L'applicazione include anche titoli che non hanno ricevuto un rilascio precedente in inglese. Nei prossimi tre mesi, il catalogo si amplierà con più di 300 titoli e mille volumi, tra cui troverete L'attacco dei giganti, Sommali e lo spirito della foresta, Fire Force e Arte. Ogni giorno ci saranno dei nuovi aggiornamenti e si potrà scegliere tra due tipi di lettura, all'occidentale, da sinistra a destra o verticalmente. Mangamo è stata creata dalla collaborazione tra diverse compagnie, come Hulu, Crunchyroll, Netflix e Viz. E al momento sono 11 gli editori partner, tra cui Kodansha, Comicsmart, Toppan e Northstar Pictures. L'app è disponibile in tutto il mondo, ad esclusione di Giappone, Cina e Corea, come detto però al momento purtroppo solamente per dispositivi iOS. E infine, una notizia che riguarda tutti i fan del bellissimo Shinseiki Evangelion. Infatti, il sito ufficiale del brand ha annunciato che Evangelion 3.0 più 1.0, il nuovo attesissimo capitolo cinematografico dell'opera di De Aki Anno, non uscirà nelle sale giapponesi il 27 giugno, come inizialmente previsto. Chiaramente, i motivi di questa posticipazione sono dovuti all'emergenza sanitaria in corso e non possiamo far altro che attendere l'annuncio di una nuova data. E per questa settimana è tutto. Fatemi sapere qui sotto con un commento cosa ne pensate di queste news e commentiamole insieme. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, commentate, iscrivetevi attivando le notifiche e condividetelo sui social. Aprite il box informazioni qui sotto che è pieno di info utili su come fare donazioni, come supportarmi e dove seguirmi sui miei vari social, tra cui il mio canale Twitch e tantissimo altro. Noi ci vediamo alla prossima e ciao!